Accendi le luci. Imposta le luci in rosso. Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo rapido video in cui vedremo come eseguire dei comandi vocali per Siri per attivare, disattivare e modificare il colore delle nostre Philips Huey. Inizio col dirvi quali sono i comandi supportati dalle Philips Huey. Il comando principale è chiaramente accendi le luci o spegni le luci per accenderle e spegnerle tutte. Oppure possiamo anche specificare il tipo di luce, quindi ad esempio accendi la luce nel corridoio. Oppure imposta la scena per scegliere una delle scene predefinite. Oppure imposta le luci a questo livello di percentuale di luminosità. Oppure aumenta la luminosità, diminuisce la luminosità delle luci. Oppure ancora, imposta il colore rosso ad esempio. Insomma, le potenzialità sono davvero tante ed è molto comodo comandare le luci tramite Siri. Tanto più se abbiamo a disposizione un iPhone 6S su cui possiamo semplicemente dire Hey Siri, accendi tutte le luci. E le luci si accenderanno senza neanche premere il tasto Home del nostro dispositivo per far sì che l'assistente vocale inizia ad ascoltarci. Il tutto è possibile tramite la nuova tecnologia HomeKit di Apple introdotta in iOS 9 che Philips è stata tra i primi a supportare. Bene ragazzi, quindi se vi è piaciuto questo veloce sample del funzionamento delle Philips UI tramite Siri con iOS 9, fatemelo sapere nei commenti e lasciate un bel like. Noi ci risentiamo al prossimo video. Ciao a tutti da Annelia Cervone per iPhoneItalia.com Ciao a tutti.